Buonasera a tutti, io sono Paolo Perozzo e con Maria Elena Porzio ho il piacere di presentarvi questa sera questo nuovo libro di Monia Benini che si tratta di liberarsi dalla dittatura europea. Ogni volta che presento Monia dico anche due parole su di lei, anche se non sono necessarie, ma comunque qualcuno magari non ti conosce o ti conosce poco, perciò qualcosa di te lo diciamo. Allora, Monia Benini, cosa si può dire di te in poche parole? Dunque, sia tra dubbio europeista, membro del Bilderberg, dell'Istituto Aspera, della Trilaterale, Valtriche anche lì, giusto? Tanti tanto! Ecco no, allora sembra che invece poi nel corso di quest'anno, Monia mi dispiace, ti ho irrimediabilmente smascherata, tu hai questa colpa imperdonabile dell'euroscitticismo e questa era una cosa che veramente, cioè, è dura eh, è dura, guarda, riproverabile veramente, non so come, per esempio, sono in imbarazzo anch'io, sì. No, allora, Monia viene da un percorso di laurea in lingua, è giusto? Dopodiché, leggo dal libro, per non sbagliare, perché qua lì, c'è un percorso formativo nell'ambito delle relazioni e delle funzioni internazionali con studi e specializzazioni all'Università di Padova, all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano, all'Istituto di Sociologia Don Luigi Sturzo di Capagirone e all'Università di Pertignano in Francia. Se non ricordo male, però, tu hai avuto anche un'esperienza di tipo parlamentare, hai assistito a un parlamentare europeo o nazionale? Nazionale. Il nostro Fernando, il senatore Fernando Rossi, sì, ecco bene. Allora, cosa dire su questo libro? Poi adesso Elena, prima diarti la parola, farà una piccola presentazione del testo. Io volevo solo dire che, effettivamente, la lettura di questo testo mi ha interessato, ma mi ha anche, devo dire, arramato, come i testi precedenti. Non mancano i motivi di preoccupazione. noi passiamo, siamo passati, idealmente, in pochi secoli da un'Europa in cui, appunto, avevamo la tavola rotonda dei 12 cavalieri di Artù, invece oggi abbiamo questa round table, e questa è una cosa che ha richiamato molto la mia attenzione, che non è altro che, sì, una tavola rotonda, però non è assolutamente occupata da cavalieri virtuosi, ma, anzi, tutto al contrario, perché si tratta di una serie di lobby che dettano proprio, essenzialmente in termini delle indicazioni di politica nazionale e internazionale alla Commissione Europea. Quindi, qualcosa di molto delicato e non è l'unico degli strumenti di potere di una finanza che comunque parla con molte voci ed è veramente preoccupante. una delle cose che ritengo più allarmanti, poi ci dirai tu cosa ne pensi, è questa ambiguità, non uso le parole non trasparente, non democraticità, perché questo non è molto… però questa ambiguità di una classe dirigente che ci governa e che governa l'Europa, che purtroppo, ad apparenza, ha le caratteristiche di una discreta affidabilità. e quindi noi abbiamo dei volti puliti che invece dietro, apparentemente puliti, e che invece dietro nascondono un grande bagaglio di parole e di intenzioni non proprie, assolutamente non proprie. Cosa voglia dire fare il politico sulla base di indicazioni date da altre, io non voglio neanche immaginarlo, cioè qualcosa di squalidissimo, soprattutto quando sul rispetto di quelle indicazioni poi si basa una carriera, un successo politico. Quindi questo è veramente terrificante, a spese di tutti i cittadini lineari che magari colpivano e difendono nel loro privato questo mito dell'Europa e i suoi contenuti migliori, quindi inconsapevolmente, no? Allora, io darei la parola un attimo a Elena che ci fa una brevissima presentazione del testo. Ovviamente lei cercherà di dire tutte le cose che avresti voluto dire tu, in modo tale che poi non ti resterà niente da dire e passeremo al dibattito di schermo. Bene, la parola a Elena. Grazie Paolo. Buonasera a tutti, sono Maria Elena Forte, per chi non mi conosce. Ho il piacere stasera di dirvi proprio due parole sul libro di Monia. Il terzo libro, il titolo è Liberarsi dalla literatura europea, è un libro edito dalla casa editrice Sì, è uscito ad agosto di quest'anno, fresco, fresco. Nei mesi precedenti erano stati organizzati anche altri incontri per presentare i due libri precedenti di Monia, nel 2012, uno era la guerra dell'Europa e il secondo era risvegliati. Il terzo libro, Liberarsi dalla literatura europea, è sostanzialmente diviso in tre capitoli. Nel primo capitolo, intitolato Una casa ricevuta in eredità, che è anche quello che ci è scritto alle nostre spalle, si parte dal lontano piano Marshall, che è stato attuato nell'immediato dopoguerra dal 48 al 51, si passa per il trattato di Maastricht e con parole abbastanza chiare e abbastanza esplicite, Monia ci racconta come siamo arrivati all'Unione Europea, che vediamo adesso, come è nata la Banca Centrale Europea, la BCE, che è un organo autonomo, è un organo sovrano, è un organo extraterritoriale, e ci racconta come siamo arrivati ad una moneta unica all'euro, la cui quantità è messa sul mercato, non viene più decisa dai singoli governi, ma viene decisa automaticamente dalla Banca Centrale Europea. C'è un secondo capitolo, la frase ci colpisce immediatamente, è una frase che forse avrete già sentito, non è una crisi, è il sistema. Monia ci offre una visione di quella che è la situazione dei mercati finanziari attuali, ci parla di speculazioni che vengono fatte da questi grandi multinazionali, da questi grandi banchieri, dall'alta finanza, sempre fatte con scopi utilitaristici, sapete che cos'è l'utilitarismo? È la teoria per cui un individuo raggiunge la massima felicità attraverso il benessere materiale, quindi ovviamente attraverso il denaro. E leggendo scopriamo che, scopriamo purtroppo, che gli obiettivi dell'alta finanza non hanno niente a che vedere con il benessere dei cittadini. Però i cittadini si sono trovati coinvolti loro malgrado in queste grandi manovre e hanno raccolto sulle proprie spalle il peso di un debito che i governi hanno assunto con le banche per evitare il collasso del sistema bancario stesso. Monia ci parla di fondo monetario internazionale, di globalizzazione, di crisi dell'intero sistema Europa. E fa anche un interessante paragone con due paesi, Grecia e Cipro, che hanno attraversato una crisi gravissima, sono considerati dei sorvegliati speciali, ma direi che praticamente anche noi lo siamo, a questo punto, e per questi paesi sono stati emanati una serie di provvedimenti che ricordano in moltissimi punti le manovre che il governo sta attuando in Italia. Poi c'è un terzo capitolo in cui si parla di eurosceticismo. Qualcuno la vede come una colpa, sarà quasi blasfemo a non credere in questa Unione Europea, così come è stata pensata e attuata. Invece è lecito essere euroscetici se guardiamo i risultati degli ultimi dieci anni, perché in questi ultimi dieci anni c'è stato un percorso graduale ma inentrabile in cui i paesi forti sono diventati ancora più forti e più potenti e i paesi deboli sono diventati ancora più deboli e purtroppo ancora più poveri. Nonia ci dice che dovremmo opporci, che dovremmo in qualche modo resistere, però la vera domanda è come dobbiamo farlo. Cita parole di Papa Francesco, il quale dice che dovremmo agire con impegno personale e con partecipazione reale, non soltanto con i computer, attraverso la rete. Dovremmo essere anche consapevoli che anche attraverso la rete c'è in alto un sistema che monitora, che esaggia le opinioni e che cerca di influenzarle, quindi non è lente, nemmeno la rete ha questo. Ricordiamoci che nel 2014 ci sono le elezioni per il Parlamento Europeo e purtroppo è nato un sistema che in ogni modo e con ogni mezzo tenta di convincere i cittadini che essere euroscettici non si sa perché se è uscita. Io lascio la parola a Monia che vi illustrerà molto meglio di me il libro che ha scritto, a termine ci sarà uno spazio dedicato alle domande che potrete fare per approfondire, chiarire ed eventualmente anche controvattere. se c'è qualche europeista convinto. Grazie, vorrei ringraziare subito se Paolo che è il primo per questa introduzione. E partiamo subito da questa casa ricevuta in eredità, da questa Unione Europea, rispetto alla quale dovremmo essere felici di aver ottenuto quello che abbiamo oggi, ovvero una Unione Europea che dovera originariamente essere un territorio di convivenza pacifica, di arricchimento reciproco e secondo le idee di quello che è uno dei miei punti di riferimento, a Tiero Spinelli, avremmo dovuto vivere all'interno di un'Europa federalista, dove i vari paesi, dove stati in qualche modo condividevano un percorso, condividevano un'Unione, una vera propria Europa dei popoli e un'Europa dei cittadini. E questa è un'idea che ancora porta avanti, che è ancora dentro di me. Ma se andiamo a vedere qual è la struttura attuale della casa che abbiamo ricevuto in eredità, ci accorgiamo che ben distante e distinta invece da ciò che in qualche modo ci hanno propagandato, ma soprattutto dagli ideali che magari molti di noi condividono. E direi, passiamo subito alla casa nella sua realtà, nei suoi aspetti. Prima giustamente si diceva, si parte dal piano Marshall, si va un pochino indietro nel tempo, ma è necessario, perché se no non ci renderemo conto, ad esempio, che l'Unione Europea Monetaria, all'interno del quale ci troviamo, è stata creata e voluta, perché già, ce lo dice William Clayton, un uomo chiaro del Dipartimento di Stato americano, è stata voluta perché già alla fine del secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti avevano necessità di accaparrarsi i mercati europei, altrimenti sarebbero stati costretti a ricostruire la propria economia sin dalla base. E per questo gli Stati Uniti organizzano due agenzie, una interna che serve per sostenere, dove saranno le aziende, le corporations che poi venderanno i propri prodotti, le materie prime di cui i paesi europei erano del tutto privi, ricordiamoci che era finito il secondo conflitto mondiale, e tra pareti, quelle stesse aziende che oggi possiamo chiamare multinazionali, perché è lì poi che comincia ad allargarsi il discorso. E poi una seconda agenzia, appunto voluta dagli Stati Uniti, con sede a Parigi, che di nome fa Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, e sigla UCE. E' questa UCE che fornisce la cornice negoziale che porta prima nel 1951 alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e poi nel 1957 alla sigla dei Trattati di Roma, e quindi alla vera e propria creazione della Comunità Economica Europea, da OCE al Cielo. Questo è uno dei punti di riferimento che dobbiamo avere presente. Se però, poi si sembra troppo distante, è passata tanta acqua sotto i ponti e quindi c'è stata un'evoluzione anche storica da questo punto di vista, soffermiamoci allora ad una tappa un pochino più vicino a noi. Una tappa con dei documenti che ancora oggi potete reperire in rete sul sito dell'Europarlamento o della Commissione Europea. Ed è un vero e proprio piano, viene chiamato, oppure dossier. Pierre Werner. Pierre Werner è il capo di una commissione di lavoro voluta dall'allora CE a sei membri, Italia, Francia, Germania e Benelux, per definire una vera e propria roadmap per un insieme di passi, provvedimenti e buscalenziali, chiamiamolo così, per come si sarebbe dovuto raggiungere quello che già allora, 1970, veniva definito obiettivo finale di questa Unione Europea, della CE allora, ovvero una moneta unica. 1970, quando ancora, come dire, Spinelli Cera era attivo, altri europeisti convinti stavano lavorando, si pensava già ad un obiettivo conclusivo, prioritario, quasi esclusivo, se leggete un dito a farlo, questo piano, Pierre Werner, dell'ottenimento di una moneta unica, non quindi da una costruzione politica o geopolitica, non un'Europa dei popoli e dei cittadini, ma una vera e propria Europa dei mercati e della moneta unica. Saltiamo ancora più vicino a noi. Arriviamo al Trattato di Maastricht, entrato in vigore il primo gennaio del 1993. Con il Trattato di Maastricht, fondamentalmente, del Ciliano, la nostra sovranità monetaria, a un sistema europeo di banca centrale e, in ultimo punto, ad una banca centrale europea. Questo, nonostante la Costituzione italiana, l'articolo 11, dica che sono possibili solamente limitazioni di sovranità e non cessioni, come invece è avvenuto, e, peraltro, per raggiungimento di fini del mantenimento della pace e in condizioni di parità con altri Stati. Noi, invece, abbiamo ceduto alla nostra sovranità, senza alcun limite temporale. L'obiettivo non è quello del mantenimento della pace, ma è mantenere la stabilità dei prezzi, quella a contenere anche la spinta inflattiva, si trova, e, soprattutto, non in condizioni di parità con altri Stati, quindi, non verso altri Stati, ma nei confronti di una banca, la banca centrale europea. C'è un passaggio che nel libro ho messo, perché era dato parte di un acquisito piuttosto recente e lo spiega in un saggio pubblicato il mese scorso Giuseppe Guarino, che è stato anche Ministro italiano, che ha collaborato con Spinelli, e richiama l'attenzione e, a maggior ragione, pur non essendo nel libro, vi prego, prendetemi il tempo per cercare questo saggio e per fare questo tipo di comparazione, spiega la differenza che c'è tra quanto sancito in termini di sovranità economica residua ciò che viene lasciata ai diversi paesi che entrano nell'Unione Europea monetaria e quanto, invece, si è tradotto in realtà in una vera e propria dittatura economica finanziaria di organismi che hanno completamente sottratto ciò che invece era stato stabilito degli articoli 102 e 103 del Trattato di Mastri, che prevedeva, appunto, una possibilità di manovra, un spazio residuale, appunto, per i paesi per poter utilizzare dei margini di sovranità in sostanza si doveva avere un euro unico ma tanta manovrabilità interna. Invece, no. Perché, guardate, quando questa Europa, questa struttura europea che andava componendosi, questa Unione Europea monetaria è, al dunque, ovvero, nel momento di verifica dei parametri di convergenza, vi ricordate, per il periodo del 95 e del 97, nel 97 se li volevano valutare se, come dire, i paesi erano bravi, virtuosi o se, invece, non rispettavano i criteri per poter entrare in quest'Unione monetaria quindi, quando tutti erano disperati, quando, come ci spiego per l'Italia furono fatti tutti i contabili per la Grecia, similmente, ecco, in quel momento del malasma generale, c'è qualcuno che scrive un regolamento attuativo un regolamento 1466 che, appunto, viene approvato in unanimità nel 97 ed è in come si traduce in pratica ciò che prevede il Trattato di Mastri ebbene, questo regolamento di cui nessuno parla è quello che toglie totalmente ogni singolo residuo margine di sovranità economica per tutti i paesi che vanno ad adottare l'euro e passa in sordina nessuno se ne accorge eppure ci sarà costato un estensore di questo regolamento o pensate che sia stato un computer che era scritto in automatico? no, sì, sicuramente beh, è chiaro così come succede magari al Parlamento quando c'era appunto Fernando Rossi che chiedeva l'abbattimento dei compensi nel comparto pubblico per le aziende pubbliche fu chiesto un dimensuramento quando regolavano l'euro di scrittura era doppiato come limite e chiedeva ma com'è possibile? e non c'è stato un errore del computer questo gli dissero ufficio a lui insomma, non è possibile che un computer autonomamente ridenga un regolamento di questo tipo quindi c'è qualcuno che chiaramente ha voluto sottrarre individualmente quel minimo di sovranità che veniva riconosciuto ai paesi poi se ci avviciniamo ancora di più a noi arriviamo al Trattato di Lisbona a quello che secondo Giscard de Stem rispetto all'Europa non è l'ultimo arrivato rispetto alla costruzione dell'attuale scrittura europea e Giscard de Stem dice chiaramente attenzione perché il Trattato di Lisbona è stata una solenne truffa condotta contro quei cittadini contro quei paesi nei quali era già arrivata la Costituzione europea ed era stata bocciata con referendum sia in Francia che in Olanda perché non piaceva perché sottraeva ulteriori strumenti democratici altri che sbandieravano come una conquista di strumenti democratici per i cittadini no, è uno strumento peggiorativo e nonostante ciò che cosa fu fatto? si prese la Costituzione europea già respinta da due paesi la si spogliò e si cambiò d'abito e la si toccò un pochino e la si presentò a volte si impose come trattato di Lisbona un trattato grazie al quale tutti i paesi i membri avrebbero tratto enormi benefici e in Italia in Italia come avvenne questo passaggio questo arrivo all'interno dell'Unione Monetaria abbiamo fatto darvi pista da noi all'ilà appunto di quello che dice Olivier Blanchard numero 2 oggi del Fondo Monetario Internazionale ed autore del testo di macroeconomia per i nostri studenti studiando le facoltà diciamo di indirizzo economico beh furono fatti tutti i contabili ma soprattutto fu fatto un prendevo forzoso notturno sui nostri conti correnti in un qualche modo abbiamo suggerito la via per provvedimenti recenti che sono stati adottati ad esempio verso Cipro e fra l'altro un genere di provvedimenti che piace tanto anche a Cottarelli l'attuale esperto della standing review così esperto che siamo riusciti a creare delle nuove commissioni di lavoro che serviranno indubbiamente a risolvere i problemi come no? beh chiusa la parete insomma un pochino caustica rispetto a Cottarelli questo prevo forzoso notturno piace così tanto che il Fondo Monetario Internazionale suggerisce che potrebbe essere come dire uno di quei provvedimenti da standardizzare che trovate proprio anche questi giorni in rete per i vari paesi non virtuosi e poi che cosa vengono in Italia? l'hanno fatto anche in Grecia no? si, si, si lì è stato un arcangere proprio cioè hanno tagliato letteralmente non l'hanno fatto in maniera notturna l'hanno dichiarato apertamente provvediamo e abbattiamo il valore nominale per tutti gli stati ma addirittura fino al 75% oggettivo è stata una cosa molto drammatica nel marzo dell'anno scorso in Italia oltre all'arrivo forza notturno oltre al finanziario di lacrime sangue oltre ai famosi trucchi contabili per poter aggandare lo spreno della unione monetaria chissà perché i nostri meglio si dimenticano di ricordarcelo in Italia ci hanno portato all'interno di questa unione monetaria con il segreto di Stato ora se questa doveva essere l'Europa dei cittadini l'Europa dei popoli l'Europa di arricchimento reciproco qui ricordate dobbiamo entrare all'interno dell'euro perché solo così la nostra economia si salverà solo così la nostra economia sarà rilanciata dobbiamo entrare all'interno dell'euro perché solo così i nostri operai avranno la reperuzione i salari degli operai tedeschi dobbiamo entrare nell'euro perché se no è la fine ve lo ricordate su Youtube trovate ancora i video le dichiarazioni di frodi dei vari sconetti quindi è facile recuperare la memoria storica di questo però che sa perché nessuno ci spiega che il governo tecnico di il movimento clore è sempre un tecnico che dovrebbe salvare le soldi emana un decreto con un titolo pressoché incomprensibile lunghissimo di quattro righe scritte con i documenti sottratti all'accesso questo decreto che ho voluto riportare all'interno del libro che trovate in vendita lui ci ricorda che con le motivazioni ufficiali della sicurezza nazionale e è il colmo della salvaguardia della sovranità economica del paese viene sottoposto sotto segreto di stato tutto ciò che abbia a che fare con la politica valutaria finanziaria e monetaria tutto il percorso di ingresso quindi all'interno dell'Unione Europea monetaria atti, studi elaborazioni pratiche sanzionatorie pratiche di ispezione ma ancora tutto ciò che riguarda il deficit pubblico il debito pubblico il fabbisogno del comparto pubblico tutto viene segretato sottratto all'accesso ripeto nel libro gli articoli sono piuttosto corposi ma sono drammaticamente evidenti e di sapere che nessuno questo ce lo ricorda però tutti pronti a puntare il dito se qualcuno osa alzare la mano dire attenzione perché questa attuale Europa non è l'Europa da Tiero Spinelli non è l'Europa dei poveri dei cittadini che vorremmo avere costruito un'altra cosa è un aborto rispetto all'idea originaria però nessuno ci ricorda appunto gli strumenti che abbiamo pagato che stiamo pagando di tasca nostra che imprenditori pensionati studenti licenziati disoccupati o che ancora cerca di difendere il proprio lavoro sta pagando e paga in alcuni casi addirittura rinunciando alla sua stessa vita questo chissà perché si dimenticano di dirci così come si dimenticano di ricordarci alcune definizioni relative all'euro perché ricordo l'ideazione di Mario Draghi sarà fatto di tutto per salvare l'euro l'euro va salvato qualunque costo e non si parla ancora una volta di Unione Europea o di Europa ma di euro va salvato l'euro qualunque cosa debba succedere l'euro sta salvato secondo Scholle Ministro delle Finanze tedesco nel 2012 l'euro è irrinunciabile perché sicura il primato dell'economia tedesca per un momento l'Unione Europea monetaria è composta da 17 paesi ma per quale ragione deve esserci il primato di una economia sulle altre? la famosa area valutaria ottimale il famoso percorso di omogenizzazione delle produzioni degli scambi del commercio dovresti pronunciare oiro esattamente oiro satisfagli hai perfetta ragione tant'è che una cosa che non è risapputa è anche questa i famosi parametri di convergenza e di mantenimento quelli che dovremmo in qualche modo rispettare anche in virtù del fiscal contract che abbiamo inserito in costituzione quindi ricordo il discorso del pareggio o equilibrio di bilancio ricordo parametri di convergenza come il rapporto 3% del bici il 60% debito pil sono stati voluti da quello che era il massimo responsabile della Bundesbank nel periodo dell'unificazione tedesca e identificati come comportamento virtuoso ed imposti agli altri paesi europei per cui il primo gesto in qualche modo di coercizione nei confronti di Delors fu appunto compiuto da questo responsabile tedesco e da lì si lavorò per convergere tutti quanti sui parametri che appunto furono definiti su esigenze indicate dalla Bundesbank ma sempre rispetto all'Euro ci sono personaggi in realtà che noi non sentimo mai nominare nei governi nelle istituzioni ma che agiscono nell'ombra e con una potenza di fuoco che difficilmente riusciamo ad immaginare sono grandissimi finanzieri che pensate come in questo caso Giorgio Soros nell'arco di 24 ore lanciano un attacco speculativo contro la lira italiana e contro la sterdina inglese nell'arco di 24 ore nel 1992 e affondano fanno affondare entrambe le valute nazionali considera che quest'anno è stato premiato con i premi terzani guau ah sì giusto giusto avevo pubblicato questo è stato Gianni che mi avevate condiviso l'articolo il colmo fra l'altro è che questo personaggio è in qualche modo condannato in paesi dell'area ingo-cinese proprio per speculazione verso la moneta nazionale e invece in Italia a Bologna vicino alla mia città è stato premiato per volere di prodi con una laurea e una riscausa appunto in economia e aveva dimostrato che per cui in qualche modo doveva essere premiato Giorgio Soros è uno che agisce con strumenti di controllo che vanno dal quantum fund dei Rothschild sino al finanziamento della piattaforma per petizioni Avats qui con tutto ciò che passa in mezzo lo trovate protagonista e si finanzia Avats ha fatto attraverso un strumento chiamato Respubblica ho voluto inserire anche la cosiddetta che in Italia la chiameremo misura camerale ma all'interno dell'intro c'è e Bensalto dice non si può più mettere in discussione la circolazione di una moneta unica l'euro esiste e il suo collasso provocarebbe perdite incalcolabili al sistema bancario quindi attenzione non parliamo di economia reale non parliamo di cittadini ma parliamo di danni al sistema bancario se in qualche modo osiamo sfidare l'esistenza dell'euro rischia di crollare tutto il sistema bancario poi l'ultimo personaggio vuoi per la propria esperienza all'interno della Banca Centrale Italiana come ex presidente della Repubblica nonché come ruolo a livello ministeriale nonché e anche questa fa parte della documentazione come apparato dei servizi italiani dei servizi di statua già a partire dal 1843 sa come funzionano le cose e rispetto all'euro spiega che questo ha generato un aumento dei prezzi superiore quasi un punto alla media provocando un'erosione di competitività per le nostre merci e conseguenti danni in termini di voti di mercato e nonostante tutto però chi osa sollevare qualche dubbio rispetto all'euro è un euro scettico è un fascista è contro le strutture cosa che personalmente non mi ritengo assolutamente non mi ritengo assolutamente al punto tale che nel mio animo ho inventato una struttura democratica fatta veramente di una partecipazione reale ma mi accorgo che all'interno di questa struttura europea non esiste più chi è che decide oggi? Banca Centrale Europea Commissione Europea Fondo Monetario Internazionale ah già ma anche qui i nostri mezzi sono un po' smemorati si dimentica di informarci che indipendentemente dai governi che si sono alternati Berlusconi piuttosto che Monti piuttosto che Eletto il governo degli opposti o meglio il governo di Tedros perché alla fine questo è ci troviamo di fronte ad un ministero delle finanze un ministero dell'economia che chiama regolarmente e delle commissioni di studio e di valutazione del Fondo Monetario Internazionale con cadenza trimestrale questo perché? i nostri mezzi non ce lo dicono ma è tutto documentato sul sito del Fondo Monetario Internazionale trovate tutto relazioni conferenze stampa dichiarazioni il nostro ministero vi chiama di volta in volta per chiedere che cosa facciamo con la pressione fiscale cosa facciamo quindi con l'IVA cosa facciamo con l'età pensionabile cosa facciamo con l'occupazione cosa facciamo con la sanità e guarda caso ogni volta arrivano quelle classiche raccomandazioni alle quali non si può dire di no per cui è inutile in un qualche modo puntare verso il dito quando invece bisognerebbe colpire la luna e allora certo ci fa rabbia sempre a dire che vogliono svendere il territorio italiano ci fa rabbia quando si scopre che aumentano l'IVA ci fa rabbia quando si scopre che hanno deciso che si va in pensione più tardi ci fa rabbia quando dicono che la sanità deve tendere sempre di più verso una struttura a carattere privato ci fa rabbia quando si sente che bisogna privatizzare il patrimonio di stato ma i governi in cui si alternano non fanno altro che ubbidire che in qualche modo accondiscendere a queste famose raccomandazioni alle quali non si può dire di no e sono provvedimenti fotocopia che vengono realizzati in tutti i paesi spagna portogallo irlanda italia nella stessa slovenia con il discorso delle privatizzazioni la grecia ciclo sono indicazioni fotocopia è un nuovo modo contemporaneo di colonizzare di occupare questi paesi una guerra sorda silenziosa ma che viene attualmente compiuta e pagata da noi ma poi chi è che decide allora ecco la famosa tavola rotonda contemporanea non sono più i cavalieri della tavola rotonda forse altro genere di cavalieri dal momento che sono i rappresentanti di multinazionali come British American Tobacco Telefonica Telecom Italia che è mai tutt'uno Ion Heineken Nestlé Rexel Vodafone ThyssenKrupp Total Oliver British Petroleum Fiat Renault BMW BAS Nokia GEDER Suez Solveo Unilever Deutsche Telekom eccetera quindi i rappresentanti di questi multinazionali raccolte in questa struttura che si chiama European Round Table EAR fatevi un giro in internet andate sul sito di questa EAR e trovate una vera e propria roadmap fino al 2025 come immaginano l'Europa del 2025 la si può utilizzare un po' come una sorta di premonizione Per intenderci è questa EAR che già fine anni 80 inizio anni 90 decide che era necessario un corridoio ad alta velocità che partisse dal Portogallo e raggiungesse Kiev indipendentemente dai costi perché loro faceva comodo che ci fosse questo tipo di cosa in fin dei conti sarebbe stato redditizio per la European Round Table anche semplicemente alla fase di progettazione non importa se l'alta velocità non serve non importa se rischia di essere inutile non importa se i dati dimostrano che si poteva lavorare in un modo piuttosto che non altro la European Round Table così ha indicato la European Round Table è quella che scrive le bozze che vengono fornite vi diceva giustamente prima le bozze che vengono fornite alla Commissione Europea ad esempio e che ci dicono che magari nel nostro territorio non si può più coltivare ciò che storicamente avveniva prodotto che i nostri allevatori devono avere delle quote che i nostri pescatori devono utilizzare imbarcazioni di un certo tipo che l'agricoltura così come il commercio come l'artigianato e l'industria devono sottostare a delle indicazioni direttive vincolanti da parte della Commissione Europea sono quelle che dicono che tutto sommato va bene se ci mangiamo dei cereali che sono rivestiti da un film di nanoparticelle di vetro perché così restano più croccanti quando li intoppiamo e vengono autorizzate su bozze appunto fornite dalla European Round Table poi chi è che decide? speculatori finanziari come Sol Sol è uno su tanti ce ne sono diversi di questi personaggi che riescono ad agire a condizionare i mercati i mercati non sono un'entità estratta ma sono chiaramente fatti da persone da soggetti che agiscono e poi uno dice ma allora i parlamenti i cittadini cioè l'articolo 1 della Costituzione la solatica appartiene al controllo che fine fa? casa straccia e se lo dice lui in un qualche modo dovremmo la luce negli occhi eh sì da fastidio troppa luce è troppo illuminato troppa luce ha visto la luce in cosa tu esatto allora lui scrive nel suo libro la democrazia in Europa leggetelo ma con un buon protettore gas del buono accanto lui scrive che i parlamenti dovrebbero in qualche modo seguire maggiormente le istituzioni le autorità europee autorità europee che dovrebbero educare e distruire i parlamenti alla faccia della sovranità che appartiene al popolo non solo quando ancora era primo ministro all'epoca di scrittura di questo libro si è lasciato andare ad una dichiarazione di questo tipo che è di una gravità muscolosa parlava della TAP in Val di Susa e diceva gli abitanti della Val di Susa che stanno protestando contro il progetto dell'alta velocità non si chiedono mica se le procedure sono state assunte in maniera legittima ognuno si proclama alla pari di chi prende le decisioni procedure legittime anche lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki in Ushima è stato fatto con procedure legittime il concetto di legittimità non significa automaticamente giustizia o in un qualche modo equità e correttezza significa semplicemente che qualcuno qualche governo qualcuno con procedure di carattere amministrativo istituzionale ha legittimato un determinato tipo di comportamento ma che se è giusto questo è un altro paio di maniche poi Monia scusa c'era un'altra affermazione molto forte di Monti non so se la riferisci adesso o dopo dicendo il tuo testo quello che dice del cittadino che non può essere chiamato a interessarsi a fare le leggi giusto? perché deve essere esatto ognuno si proclama alla pari di chi fa le leggi ognuno si proclama alla pari di chi fa le leggi eh no non solo il cittadino dovrebbe proclamarsi alla pari di chi fa le leggi ma dovrebbe proprio essere quello che le leggi le fa in una repubblica dove la sovranità appartiene al popolo non esiste che un primo ministro dica si erano alla pari di chi fa le leggi è il popolo che dovrebbe decidere è il popolo che dovrebbe regolamentare e gestire la cosa pubblica invece no addirittura ma invece forse sarebbe meglio anche ragionare nei termini di un governo mondiale forse sarebbe tutto più semplice in forma interrogativa oppone anche questa questione all'insegna di un'ondata globalizzante e globalizzatrice che fa tavola rasa dei periti dei cittadini della partecipazione del coinvolgimento di tutto ciò che ciascuno di noi in qualche modo dovrebbe poter esercitare però se c'è un passaggio più vicino se non mi direbbe ma non ci ce l'ho e allora arriviamo all'attuale primo ministro e non ci crederete ma finalmente per letta sovranità è fondo sovrano italiano e mi dice porca viene scappata non è giusta fatemi spiegare questo fondo sovrano italiano è stato istituito nell'estate scorsa e che è uno strumento della cassa depositi e prestiti che serve per agevolare il processo di privatizzazione e disvenita del patrimonio italiano questo è il concetto di sovranità dell'attuale primo ministro tanto per riferirci quindi tiriamo un pochino nessuno la famosa casa che abbiamo ricevuto in realtà questa Unione Europea è basata sin dall'origine su un principio irrevocabile e istituzionale del mercato e conseguentemente sulla necessaria sottrazione di sovranità dei popoli dei cittadini dei vari paesi necessaria ce lo ricordano anche più riprese ce lo ricordava Monti ce l'ha ricordato Draghi ce lo ricorda Letta ce lo ricordano i vari personaggi che di volta in volta si alternano sotto i riflettori è necessario sottrarre sovranità per poterle anzi le crisi sono utili perché consentono di sottrarre sovranità da livello statale da livello dei vari paesi per poter riconferire queste istituzioni quindi ci troviamo all'interno di una casa che ha delle fondamentali insomma molto precarie che non reggono vi ricordate dal piano Marshall per passare il piano perverne al trattato di Maastricht il famoso regolamento aggiativo e ci troviamo in una casa dove non siamo padroni perché appunto necessaria sottrazione di sovranità ci dicono e i padroni di caso utilizzano armi come il debito l'austerity il memorandum i suopi i titoli tossici tanto cari tra l'altro anche alle multi utilities e a quelle aziende che vanno poi a gestire direttamente i territori alle quali magari cediamo il patrimonio di realtà comunale o di consorzi di comuni magari diminuendo il valore delle aziende apposta per far fare il colpo dopo come è avvenuto nella mia città Ferrara con era non lo sto dicendo ovviamente caso qui a Udine e con una situazione che oggi è dire paradossale veramente un euffenismo perché quanto sono aumentate le tariffe quanto sono aumentati i servizi quante la scarsità di controlli ad esempio per quanto riguarda l'acqua insomma potremmo parlare a lungo ma capisco che vado per il tema però insomma mi raccomando guardarci bene se riuscite insomma a fare qualcosa perché io arrivo da una realtà dove questa è già operativa e sappiamo il prezzo che paghiamo era speculazione finanziaria forza quotazione veramente il proprietario il cosiddetto pubblico il comune vale nulla conta nulla non ha possibilità di intervento solo vedere un qualche modo di riverenza non mi fa più dire a livello che siamo zitti adesso dopo ci sono strumenti particolari che vengono utilizzati per questa finanza speculativa da quella che è una vera e propria dittatura finanziaria europea e globale come il bond della morte due parole su queste le voglio spendere perché sono esemplificativi di che cosa è la finanza oggi c'è una banca tedesca importantissima la Deutsche Bank che ha deciso di creare un vero e proprio prodotto finanziario chiedo perdono per il termine ma così lo chiamano che si basa sulla scommessa sulla morte di un campione di 500 persone che vivono negli Stati Uniti 500 abitanti con un'età compresa tra i 65 e gli 82 anni le cui condizioni di salute sono state parametrate indicizzate cioè hanno avuto un voto da una società terza per capire più o meno quando è che queste persone possono morire c'è una patologia grave quindi questo è rischio lì vabbè è un matismo è una roba da ridere e quindi anche magari le persone che hanno in pensione con il proprio TFR rischiano magari di trovarsi in banca prodotti di questo tipo persino i funzionali che lavorano in banca nemmeno sanno che tipo di prodotto vanno in qualche modo vendere perché è nascosto dietro una sigla numeri e lettere e fa parte magari di un portoglio di prodotti finanziari che servono per differenziare il rischio così ma funzionano così se io sono fortunato indovino l'anno di morte è un rendimento tra 6 e 8% che è eravissimo se sono particolarmente fortunato queste persone muoiono prima per cui raggiungo un rendimento a due cifre se sono sfortunato queste persone vivono un pochino più a lungo e mi viene intaccato un po' il capitale se queste invece vivono molto più a lungo perdo ciò che ho investito ma vi rendete conto che una finanza che arriva a speculare letteralmente a scommettere sulla morte delle persone è quanto di più folle di più disumano possibile immaginabile per cui ci troviamo in un ambito di finanza globale che è un vero proprio gioco ad azzardo sulla pelle dei cittadini siamo in un casinò della grande finanza se volete togliete l'accento perché tanto all'interno di un bordello ci hanno veramente affascinato quindi è pauroso quello che stiamo pagando con le nostre vite e anche quando fingono di litigare fra di loro le varie istituzioni Fondo Monetario Banca Centrale Europea Commissione Europea sul debito si intengono sempre o meglio su come imporre strumenti che vadano a vincolare le politiche dei paesi ad avere propri contratti dal punto di vista del diritto internazionale per ciò che deve essere fatto e quindi licenziamento un aumento delle tasse taglie della capacità d'acquisto di pensione primatizzazione svendita del proprio territorio eccetera 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 questo è già vero per la Grecia per l'Irlanda per il Portogallo per la Spagna e anche per Ciclo con un'aggravante che per Ciclo ad agire non è più la cosiddetta troica chiamata così dai medi ovvero Banca Centrale Europea Commissione Europea Fondo Monetario ma una nuova istituzione creata insieme a questa Unione Europea ovvero il Meccanismo Europeo di Stabilità European Stability Mechanism questo è il frontespizio del memorandum di Nicolo di Ciclo questo MES o ESMA banalizzo molto ma mi interessa insomma che sia chiaro come funziona chiede fondamentalmente che i vari Stati mettano le mani in tasca ai propri cittadini per recuperare dei fondi da conferire a questa struttura meccanismo europeo di stabilità 125 miliardi di euro solo come tranche iniziale per l'Italia e in qualunque momento il bordo del governo non lo so può decidere per quelle ricapitalizzazioni e i paesi hanno sette giorni di tempo per potersi adeguare ora una volta che il MES ha questi fondi cosa ci può fare? può concedere aiuti ovvero prestiti con interessi da dover restituire ovvero nuovo debito al paese in difficoltà cioè noi siamo in difficoltà dobbiamo rastrellare del Senato da conferire questo MES perché questo MES ci possa in qualche modo vincolare con nuove forme di debito ma c'è di più siccome non basta cosa hanno pensato a partire dall'euro vertice del giugno 2012 fino agli ultimi euro vertici di giugno dell'ottunno di quest'anno? beh hanno adottato l'SRM Single Resolution Mechanism grazie al quale nell'ottica dell'Unione Europea bancaria per il MES è possibile agire direttamente ricapitalizzando le banche senza passare dagli stati cioè se le banche sono in difficoltà il MES può ricapitalizzare senza come dire passare per quegli stati per quei cittadini che invece hanno dovuto pagare la quota di partecipazione al MES ovvero ciò che veniva propagandato come fondo salva stati e quindi per dichiarazione della stessa Cristina Garda che ho trovato sul sito ufficiale del Fondo Monetario Internazionale finalmente è stato creato un fondo salva banche questo è il sito ora ragionando sulla base dei paradigmi chi ci governa dovrebbe innanzitutto valutare qual è il debito reale e se vada pagato se ci sono strumenti dal punto di vista del diritto internazionale e ci sono ci sono delle sentenze che sono utilizzabili per chiedere la riduzione quindi la cancellazione parziale o totale del debito qualora questo debito possa essere riconosciuto come detestabile o odioso come è successo ad esempio nel 2008 con l'Equador cioè se ci si rende conto che è stato contratto con delle condizioni caperci o con delle condizioni diverse da quelle che poi nel tempo si sono date a sviluppare all'insaputa dei propri cittadini si può anche invocare il debito detestabile poi nel libro ho inserito anche l'analisi compiuta da uno studio svizzero di economisti che hanno valutato la possibilità per una parte del debito pubblico di risalire a quali sono le banche che dovrebbero fungere da tramite sia per i crediti sia per i debiti ragionando in termini di compensazione del debito fra paesi cioè l'Italia è il debitore e il creditore allo stesso tempo o meglio strutture relative al debito pubblico il debito pubblico italiano è detenuto da banche ad esempio all'estero che in un qualche modo dovrebbero rendere dei soldi all'Italia perché l'Italia ha del debito pubblico ad esempio tedesco? sì ci sono e allora come si fa? una semplice operazione matematica